E il messaggio è questo. Nel Regno di Dio non ci sono disoccupati. Tutti sono chiamati a fare la loro parte. E per tutti, alla fine, ci sarà il compenso che viene dalla giustizia divina, non umana, per nostra fortuna. Una salvezza che non è meritata, ma donata. La salvezza è gratuita, per cui gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi.